300 anni di Portofranco che sono stati appunto suggellati e festeggiati con questa emissione di Franco Bollo, è una bella operazione interessante, ha avuto un ruolo importante il Mise, il ministro Patuanelli, chiudiamo le celebrazioni di quest'anno con questo bellissimo evento che tra l'altro secondo me ha visto anche un dibattito di alta qualità sui temi molto innovativi dello sviluppo di Trieste e del Porto, per cui 300 anni e adesso si ricomincia con altri 300, quindi nulla che finisce ma chiaramente tutto che si trasforma e quindi da questi 300 anni che sono passati abbiamo acquisito molto, andremo chiaramente a vedere come si svolgeranno i prossimi o comunque almeno i prossimi anni sapendo insomma che quest'anno di 300 anni abbiamo fatto una serie di eventi importanti che secondo me hanno dato lustro a questa importante scadenza del Porto.